Buongiorno 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 si 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 se se si 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 e Sì, 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 sì. Palma! 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 Pena cosa ha fatto 40 giro? Così, così, così... Palma! 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 Quanti è andata la 171? Maia le gambe piano! Calma, calma! Occhio! Occhio! Viene bene qui! Viene dai! Via 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 dai! Brava Ida! Anche Ida ha fatto moltissime un belastico! Si è! Ehi ragazzi! Buonanello! Ok! Buonanello! 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 Devo non tornare su Ora Vieno Vieno Non correre dietro Lascia lì che tanto si mette lì Vieno 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 Vieno